Per chi vuole già iscriversi o altrimenti fra 20 minuti iniziamo a arrivare, grazie. Il cappello era semplice nei suoi contenuti, cioè di fronte allo spazio della politica a cui stavamo assistendo, a cui abbiamo assistito per anni, un gruppo di cittadini veneziani si è accompagnato, aveva scritto una sorta di manifesto, un cappello che chiamava raccolte cittadini. Era un modo, si propone appunto, di individuare i temi che interessava la città e cominciare a discutere. Dopo quello del 15 maggio le cose a Venezia sono precipitate, sappiamo benissimo cosa è successo, la politica quindi ha fallito terribilmente e la catastrofe istituzionale della società da Venezia, lo scambio a Romose, le dimissioni dell'Aggiunta e quant'altro. E quindi quella chiamata del 16 giugno era proprio su questi temi. Ci siamo raccontati lo sgomento in quella giornata, quindi ci siamo detti che i soldi pubblici sono stati utilizzati per tantissimi scopi privati, la corruzione è avvenuta nonostante tanti errori in utili controllo, più vicino al microfono. La magistratura è intervenuta sulle responsabilità penali, però ancora nulla sta succedendo per quelle politiche, e è anche consapevole che va cominciato a raccontarci che se non si cambia il sistema di persone che sostituiranno i virtuali corrotti, si troveranno ad operare delle stesse identiche condizioni, e probabilmente con gli stessi risultati. Quindi per l'Aggiunta e tutto questo è importante che torniamo ad occuparci della cosa pubblica. È un impegno per tutti noi, cioè significa dedicarci del tempo, però è anche un modo per responsabilmente prendersi cura della città. Per tanto tempo non siamo stati consigliati a lasciar perdere questo settore, era una cosa in cui si poteva la politica, i progetti, era meglio lasciarli ai politicanti di mestiere, agli esperti, noi se volevamo seguire le cose potevamo al massimo seguire un tv attraverso il talk. Abbiamo visto con po' di risultati, e quindi assieme ad altre associazioni il 10 luglio ci siamo ritrovati in questa sala e abbiamo cominciato ad interlocarci sui nostri desideri sulla città. E quindi abbiamo individuato alcuni grandi temi, il turismo, il lavoro, la casa, il trasporto pubblico, i giovani, gli anziani, e perché hanno bisogno. E quindi abbiamo cominciato a dire la nostra. Qui abbiamo riportato un po' i cartelloni di Portale Giornata, in cui sono veramente tantissime indicazioni e anche tanta voglia di partecipare. Tra le cose che sono state dette quel giorno, io mi esplopolate qualcuna sul sito di Valencia Cambia, però ci sono comunque resoconti di quelle giornate, e quelli che mi sembrano più funzionali all'organizzazione di questa serata. Quindi far funzionare la rete, la rete delle associazioni di coerenza per fortuna è ricchissima. Individuare spazi pubblici dove trovarsi, perché uno dei più ostacoli maggiori è proprio la difficoltà per la gente, per chi come noi vuole trovarsi alla sera per discutere di politica o anche di altro. Individuare i canali di informazione, perché i canali classici non parlano delle cose che ci interessano. E quindi forse dobbiamo cominciare a far sistema anche dei tanti canali di informazione piccoli, magari scollegati tra di loro, che però ci sono e che ci fanno capire cosa sta accadendo. Conoscere le pratiche di città che hanno già sperimentato con successo la partecipazione del basso. Conoscere e proseguire le esperienze dei comitati e associazioni che praticano la partecipazione. Qui ne abbiamo elencati alcuni. Io ad esempio faccio parte del Veneziano Gas, però conosco la bellissima avventura di Poveglia, del coordinamento Io Decido e tanti altri. Ci sono tanti piccoli esperimenti in città che dicono che la città vuole occuparsi del bene comune, vuole occuparsi dei cittadini, vuole occuparsi delle cose che ci sono vicine. Quindi partire dalle esigenze e dai bisogni che la città esprime. Ecco, questa è la prima necessità. Cosa abbiamo fatto dopo quella giornata? Abbiamo sostanzialmente individuato 15 tematiche di nostro interesse, come Venezia cambia, sto parlando. Abbiamo attivato 12 tavoli di lavoro, abbiamo incontrato e partecipato a un'attività con altre associazioni, abbiamo organizzato momenti di incontro e approfondimento. Mi piace dire che tra i tavoli che Venezia Cambio ha organizzato, appunto 12, dalla residenza, abbiamo parlato di legge speciale, città metropolitana, beni comuni, laicità, sono tanti i temi, ognuno di questi aveva un referente e le persone che si sono iscritte per lavorare su questi temi vanno da gruppo più numeroso di 19 al gruppo meno numeroso di 6 persone, però questi sono gli iscritti, poi in realtà hanno partecipato anche altri che si trovavano a passare lì, comunque che erano stati interessati. Un altro esempio ci siamo attivati per capire cosa le altre città hanno fatto e quindi abbiamo approfittato dell'esperienza di alcuni di noi, dei contatti di alcuni di noi, abbiamo contattato il sindaco di Udine che ci ha raccontato questa bellissima esperienza di Udine dove una lista civica è al secondo mandato insomma il sindaco della città di Udine e anche forse un po' meno conosciuta l'esperienza di Padova, dei 2020, una lista civica che è nata in poche settimane e che nel giro di alcuni mesi è riuscito ad ottenere poi alle comunali di Padova il 10% per cui non lasciamoci scoraggiare dei numeri che invece la stampa tradizionale ci racconta. Quindi la strada che dobbiamo seguire certo non è semplice però dobbiamo tracciarla e possiamo farlo appunto se le tante associazioni che per fortuna vedo qui anche molto ben rappresentate riescono a mettere assieme le proprie esperienze e quindi l'obiettivo è quello di riguadagnare i cittadini alla politica e la politica alla partecipazione democratica. Mi ha finito, grazie. Quindi la sfida è grande è la sfida di dire che non è vero che non c'è futuro che non è possibile riguadagnare alla politica la comunità cittadina. Noi pensiamo che le condizioni ci siano tutte ci sono i saperi in questa città ci sono le pratiche le persone sono impegnate da anni e conoscono i problemi della città e c'è la possibilità ovviamente di lavorare assieme bisogna evidentemente lavorare assieme anche sulle regole che è importante. L'altra cosa che se volete è l'altro aspetto della medaglia è il fatto che comunque la politica tradizionale la politica dei partiti anche dopo il 4 giugno non ha reggito anzi ha cercato di ricostruire una sorta di colpore di dire che nulla era successo di grave che potevano interpretare un nuovo cambiamento o rinnovamento e questo è stato il light motif anzi meglio usiamo un termine più terra a terra la manfrina è stata tenuta no? è possibile non ci pensiamo adesso rinnoviamo ci mettiamo in discussione lavoriamo eccetera non sta succedendo nulla nulla di nuovo questo è il dato vero ci sono le riunioni delle segrette di partito ci sono gli incontri bilaterali ci sono candidati che un giorno appaiono e l'altro giorno scompariano ci sono i padrini e le madrine e le dicono tizio piuttosto che cariano ecco questo sicuramente ci obbliga ancora di più a fare le scuole perché se la politica quella che ha governato questa città quella che è organizzata nei partiti politici non ce la fa non ce la fa secondo me è un problema anche culturale e questo è il motivo per cui noi dal primo appello del 15 maggio abbiamo detto il nostro giudizio è che i partiti siano irriformabili ma non perché dobbiamo demonizzarli ma perché c'è bisogno di una fase nuova e dica che a partire da un rinnovamento profondo delle pratiche della cultura della politica anche i partiti saranno obbligati poi sulle cose non sulle dichiarazioni ma sulle cose a cambiare allora quello che noi oggi volevamo provare a fare è dire c'è un tema che evidentemente ci deve accomunare alcuni valori di fondo di orientamento che dobbiamo avere noi li abbiamo riportati qui semplicemente per dire questo è il percorso che in questi mesi abbiamo fatto e abbiamo trovato alcune cose di orientamento per un dibattito e decidiamo qui molto rapidamente che non sono assolutamente parole retoriche perché dire che una comunità in cui vivere e lavorare bene significa ricostruirla questa comunità perché a Venezia la comunità oggi non soltanto in forte sofferenza ma rischia di saltare è saltata per aria nei miei interessi nei miei gruppi organizzati gli uni contro gli altri allora parlare di politica significa ricostruire una dimensione di comunità ci sono degli interessi che sono comuni a tutti e che sono più importanti degli interessi privati o di gruppo perché questo è un tema su cui dobbiamo interrogarci perché se non ritroviamo questo senso dell'appartenenza a una comunità è molto difficile ricostruire una rappresentanza politica scegliere una persona il simbolo il sindaco che dovrebbe in qualche modo incarnare questo senso di appartenenza alla comunità ma è soprattutto molto molto difficile far sì che ci sia un programma vero non delle dichiarazioni pubblicitarie un programma che poi si attui che sia misurabile e verificabile allora questo è un tema centrale è un tema centrale il fatto che l'economia e le istituzioni tornino ad essere al servizio dei cittadini anche qui sembra retorica ma oggi l'economia di questa città va per conto suo ci sono funzioni importanti di questa città il porto e l'aeroporto che vanno per porto e la porto e la strada che decidono non di non soltanto in autonomia ma contro gli interessi della comunità contro gli interessi allora il problema è bisogna costruire una piattaforma politica in cui l'economia e le istituzioni siano al servizio dei cittadini c'è un terzo punto molto importante che è il tema del confronto continuo tra eletti ed elettori penso che se ci sia una questione che abbiamo posto al centro anche nell'iniziativa politica di Venezia che è la partecipazione la partecipazione prima cioè questa partecipazione fatta moltiplicata in tanti luoghi con metodo in modo che tutti hanno la possibilità di partecipare di dire la propria costruire sintesi sulle proposte e quindi poi arrivare a un programma che sia effettivamente continuissimo ma la partecipazione durante perché dopo la campagna elettorale gli eletti il sindaco i presidenti di municipalità i consiglieri comunali gli assessori le posizioni di vertice delle amministrazioni che contano quelle delle società partecipate non possono fare quello che vogliono e non possono non prendere di contare alla città quello che decido e quindi la partecipazione durante è fondamentale e poi il bilancio questa è una città che non aveva un bilancio delle giunte dell'amministrazione del governo non c'è mai stato un momento di sintesi in cui si è detto avete governato bene su questo avete governato male su quell'altro perché c'è una sorta di rendita allora le rendite politiche sono finite la partecipazione è la lingua vitale per dire che chi lavora politicamente chi lavora socialmente chi lavora per la comunità vale non chi ha una rendita perché ha qualcuno che lo incorone come candidato o un partito dietro che gli fa la campagna elettorale vado rapidamente il tema del programma della visione di città che città vogliamo ma davvero qual è la visione di città è la città in cui si recuperano le tradizioni i saperi la forza e la grande modernità nell'essere antica di questa città e questo tema su cui non c'è dibattito una politica che non si interroga sul senso sulla visione di città non è politica che vale per una comunità un altro tema importante è l'ambiente con un bene non negoziabile che cosa vuol dire che non possiamo accettare più ricatti sulla questione ambientale non ci può essere un ricatto sulle questioni ambientali non ci può essere un Paolo Costa che dice il canale contorta sì perché se no si perdono i posti di lavoro perché questo discorso l'abbiamo sentito per decenni è ancora del rischio chimico a Marghera ed è quello dello strapotere di Marchi che adesso dice io sono uno che è un datore di lavoro e che dà lavoro a questa comunità quindi decido io no questa non è la logica di ricatto né anche sull'ambiente né sociale e altri valori vorremmo poi discutere assieme allora oggi abbiamo tre appuntamenti questo è il primo il primo è come cambiare se è venuta meno la fiducia nelle istituzioni se è venuta meno la fiducia nella politica bisogna ricostruire la fiducia ricostruire delle regole condivise e rispettate allora questo è il primo livello che proponiamo il secondo poi sarà cosa i programmi Maria Pia diceva prima che già abbiamo cominciato a lavorare a raccogliere i saperi che ci sono a metterli insieme in tante di lavoro però poi i programmi vanno condivisi e costruiti assieme e poi i candidati i chi allora per fermarci sul primo punto è fondamentale discutere su alcune questioni le regole che vorremmo discutere oggi sono ma non mi ricordo più i mezzi per le campagne elettorali il costo della politica e beh questo o soli se n'è andato è dimesso è stato obbligato a diventarsi perché qualcuno gli aveva gestito la finanza della campagna elettorale questa cosa non può più succedere vogliamo sapere quanto costano le campagne elettorali vogliamo sapere chi le paga le campagne elettorali vogliamo sapere come si rende pronta le spese delle campagne elettorali e vogliamo anche sapere se un'amministrazione comunale anche povera può mettere la disposizione dei servizi pubblici a una comunità che vuole partecipare oggi succede esattamente il contrario questa sala costa 300 euro questo è un modo di ostacolare la partecipazione dei cittadini fare un riflesso e portare in giro quella città se non si vuole non rispettare la legge se vuole rispettare la legge significa che c'è un titolo è una fissione allora questi costi della politica possono essere ridotti domani mattina basta la decisione del provisario che dica durante tutta la campagna elettorale tutte le forze movimenti civici partiti eccetera che vogliono partecipare a questa campagna elettorale fare politica hanno dei servizi pubblici a disposizione altrimenti succede come è successo in passato che c'era qualcuno che aveva la rendita appunto perché aveva la rappresentanza in consiglio comunale e quindi aveva dei servizi gratuiti e gli altri dovevano pagare che cosa fare degli ex amministratori questo è un tema rilevante tra tutte le regole perché si parla di rinnovamento ma c'è qualcuno che sta dicendo io mi sono rinnovato adesso sono pronto per ricandidarmi allora una sorta di autogenerazione di rinnovamento io penso che ci siamo parli di discontinuità chi ha governato finora ha delle responsabilità sui disastri costruiti quindi faccia un passo dietro lasciati in qualche un altro provi ecco questo è una regola è un tema da discutere quali sono i requisiti e gli impegni dei candidati ci sono ci sono già un profilo di alcune regole fondamentali che possiamo discutere adesso le parliamo il valore dei programmi e la regola del mondo è questo percorso che noi proponiamo l'abbiamo chiamato cittadinario ma sostanzialmente vuol dire che durante tutta la campagna elettorale la cittadinanza deve essere coinvolta deve poter contare dire la propria possiamo semplicemente leggere i giornali ed essere spettatrici nell'assemblea poter pensare insieme alle regole e applicarle quindi pensare insieme ai meccanismi di selezione e parteciparle a formazione delle liste elettorali questo per noi è un percorso di cittadinario vorremmo provare oggi cercando alla fine di avere qualcosa in mano che sia disponibile che sia un patrimonio di tutti e che potremo usare come uno strumento da domani mattina questa assemblea evidentemente ne avrà molte altre ci auguriamo e quindi se questo percorso funzionerà di trasparenza di partecipazione però con rigore probabilmente possiamo farcela e costruire una politica diversa adesso vorrei dare la parola a Gilberto che racconta alcuni dei tempi su cui ci siamo interrogati per la regola grazie a tutti come avete sentito negli interventi precedenti ci sono delle sfide drammatiche io li considero la prima è questa la politica non come professione ma come servizio alla collettività che capovolte radicalmente in modo attuale di fare politica la seconda è che vi chiamiamo a decidere sulle sorti della città attraverso un processo di democrazia partecipativa cioè noi intendiamo con i buoni giorni in tutti gli aspetti della vita amministrativa di questa città cosa che non è mai stata fatta abbiamo tentato due volte sì nel 2010 con questa amministrazione ma con scarsissimi risultati oggi invece lanciamo questa sfida non soltanto a noi ma anche a noi la prima sfida quindi è questa vi chiamiamo a discutere a dare il vostro contributo le vostre indicazioni le vostre osservazioni i vostri suggerimenti sul problema delle regole che dobbiamo adottare come vedete qui dalle slide che passano la prima è si parlava dei finanziamenti della campagna elettorale questo aspetto riguarda il problema della trasparenza e non è che se dicevo contributi mi devo comprare le tante verdi voglio dire a parte il fatto che il verde non mi piace ma devo essere trasparente devo dire ai miei elettori come ho speso i contributi che ho ricevuto cosa che fino adesso non è mai stata fatta quindi trasparenza sull'utilizzo sulla racconta dei contributi sulle gratuità ricevute in modo tale da essere con il massimo tutti dobbiamo sapere ciò che viene speso Pietro Pizzo diceva prima se un servizio pubblico mette a disposizione o riduce i costi della politica anche noi riduciamo le spese per la campagna elettorale passiamo alla seconda ah non si vedo bene allora ve ne leggo ieri esempio che non vogliamo replicare gli ex amministratori hanno amministrato bene punto di domanda allora noi non hanno nessun limite per le ricandidature anche il partito democratico credo che è un ottimo partito aveva due mandati poi a Devedero che sul terzo mandato per esempio i consiglieri regionali noi abbiamo consiglieri regionali del partito democratico con tre mandati ma non solo anche del consiglio ormai del punto provinciale quindi non diciamo no a candidature di chi si è compromesso con le precedenti amministrazioni il caso del Mose è uno di questi non è possibile che gli amministratori non sapessero assolutamente niente comunque noi poniamo un limite ai mandati perché noi crediamo che la politica sia un servizio alla collettività e non una professione ieri avevamo non avevamo esperienze e competenze ciascuno poteva candidarsi o se si candidava perché apparteneva a qualche cricca a qualche gruppo di pressione e naturalmente si potrebbero verificare anche eventuali confetti di interesse noi siamo sostanzialmente contrari a quanto è successo nel passato i candidati dovranno dichiarare le loro esperienze le loro competenze le loro professioni le attività svolte nell'ambito della pubblica amministrazione eventuali evidenze con la giustizia e naturalmente precedenti attività situazioni che possono dar luogo ad eventuali conflitti di interesse sono tutte ne mancano ne vogliamo delle altre vogliamo essere più rigidi vogliamo mettere più vincoli benissimo siamo qua per discuterle candidatura a scatola chiusa noi non vogliamo più le candidature a scatola chiusa decise direttamente dai partiti abbiamo visto le esperienze passate oggi abbiamo il commissario una città di livello mondiale che non un'amministrazione politica ma un commissario allora le candidature chi sarà il sindaco dovrà dire chi sarà il proprio vice sindaco qual è la squadra le quote di genere definite quante donne per esempio almeno i nomi principali dei collaboratori cioè della squadra di giunta perché voi sapete che è importante la giunta con la nuova legge sugli enti locali i sindaco e la giunta decidono le soldi della città e c'è un processo di grande democrazia nei confronti del cosiddetto consiglio comunale che fino ad oggi e lo diceva anche Cacciari il povero Cacciari diceva siete i miei soldatini purtroppo è così noi non vogliamo che questo succeda più vogliamo anche stabilire un processo di democrazia all'interno dell'amministrazione comunale bene quindi le regole delle primarie decise dai partiti questa sera voi lo sapete il partito democratico decide le regole per le primarie però sono le primarie di partito o sono le primarie di coalizione se sono di partito ma se sono di coalizione con chi qual è questa coalizione ci sarà dentro anche a destra oppure no allora noi cosa diciamo noi invece se vogliamo un confronto pubblico preventivo sul modo sulle regole per stabilire le primarie quindi regole condivise io prima battuta citavo questo discorso della partecipazione democratica diciamo che esistono esempi in Italia di partecipazione democratica decisamente molto interessanti veramente interessanti vi cito un esempio per tutti la regione toscana la regione ha fatto una legge sulla partecipazione democratica ed è l'unica legge al mondo a tempo mi spiego questa legge è valida per il tempo dell'amministrazione regionale cambiata l'amministrazione la successiva dovrà stabilire se questa legge è ancora valida un po' quindi è un esempio di grande democrazia che vorremmo applicare anche qui bene allora oggi noi siamo chiamati a stabilire o a discutere o a suggerire a proporre queste nuove regole noi qui abbiamo dei poster dove possiamo scrivere vi diamo la parola perché io ho terminato di parlare vi diamo la parola perché ci dice anche cosa ne pensate quali sono i suggerimenti che ci date grazie un breve eh scusate molti mi conoscono sono consigliere comunale all'uscente allora credo che ciascuno di noi deve dire mettici la parcia io sono si sente? si ecco io sono d'accordo non solo oggi con il vostro progetto e con le regole e posso dire che alcuni di noi in consigli comunali proprio per applicare queste raccoli sono stati buttati fuori dai partiti tre anni fa io ho fondato l'Italia di Valore Venezia sono stato buttato fuori dal partito perché non approvava il bilancio bilancio del raccontro quello che avevamo firmato il giorno prima con il centro-sinistra e il partito il partito dopo sei mesi mi ha mandato lì si è sciolto e non so se legalmente legalmente lo fa anche lì con due persone il regolamento per credere il comune che bisogna avere tre persone con due persone il sindaco ha permesso che facesse il nuovo partito sono cose che sono successe all'amministrazione noi abbiamo fatto le cose a tali cose qui a sinistra ma non siamo mai riusciti quello che io volevo dire qui in questa settimana è che qui quindi da tre anni io combatto appunto l'egemonia d'Italia di partiti e mi sono trovato con molti di voi qui vedo con molti di voi delle partite che abbiamo fatte in questi ultimi tempi perché io credo che per la cronaca bisogna anche ricordare le partite che abbiamo fatto e che abbiamo perso quello che abbiamo fatto alcuni di voi che vedo qui insieme a Piano Pizzate ricordo la questione sa io ho votato contro e tutti sempre hanno svenduto la sala gli altri partiti hanno votato a favore qualcuno per non votare è andato fuori però ha mantenuto il numero legale perché anche questo succedeva qualcuno manteneva il numero legale e si asteneva stando passavano uguali i provvedimenti queste cose sono successe bisogna dirle perché solo così si può scegliere il casino noi abbiamo votato il casino che è stato svenduto e che dopo l'abbiamo visto contro tutti i palazzi di Venezia e la vendita ricordo qui il problema territoriale oltre al palco certo il microfono generale di Caromar volevano costruire al Caromar 47 viventi noi insieme qua noi abbiamo adottato e l'abbiamo fermato per due anni poi non sono stati costruiti hanno costruito un imbarcadero scusa non sono stati costruiti sul funzionamento tutto hanno costruito anche un imbarcadero a Caromar di notte fatto io personalmente ho fatto l'indievo al magistratore anche un imbarcadero ancora di notte a Caromar sul problema di Fondano dei Tedeschi su Santa Maria di Sapetta abbiamo chiesto io e un archivistico consigliere di fare un consiglio comunale su Santa Maria di Sapetta ma non abbiamo portato a casa nulla sul Fondano dei Tedeschi sul problema sull'ospedale al mare sul teatro Marinone abbiamo presentato l'inventamento che si ha godato anche il conto i verdi hanno godato anche il conto l'inventamento che permetteva che il teatro Marinone non fosse venduto invece è stato venduto al piatto Marinone ecco queste cose io credo che la città deve sapere che qualcuno ha messo la faccia adottata sul problema sociale assistenziale siamo stati tre anni in battaglia contro i partiti sia di centrodestra che di centrosinistra la notte quando approvavano i bianci il centrodestra andava a centrosinistra e chiedeva con le forze dei Daub e i bianci venivano approvati ecco allora io credo che oggi a certo punto come diceva anche l'amico penso i partiti se non si rigenerano se non si rigenerano completamente non ha più senso in forma di benessere sono nate ecco io vengo qui anche io ho un'associazione di civica e tante altre assoluzioni sono nate io ho proposto a Pizzo a Pagliati che si facesse un coordinamento di tutta la situazione civica perché se non ci riuniamo insieme vengono sempre i partiti perché i partiti sono forti hanno soldi hanno potere e hanno soprattutto il rapporto dopo vediamo con la con la società partecipante con il potere clientelare ecco noi non abbiamo nessun rapporto con il potere clientelare loro comandano hanno questo rapporto e alla fine la gente li vota ecco quindi l'unica cosa per coltare i partiti è che si facesse questa è la mia proposta concreta io ho presentato un memorandum dall'avviso anche a Marco Zanetti che si facesse un coordinamento tra tutte le assoluzioni civiche sono tante perché nascono ogni giorno che si facesse un passo indietro tutti di noi dovevano fare i coordinatori i portavosi un passo indietro per fare una detenzione civica e io vi provo qui perché non pensiamo che anche le assoluzioni ci vuole abbi un candidato come sindaco e facciamo il chielo di un'aria grazie 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 secondo me 4 minuti 4 massimo perché vogliamo provare la parola grazie grazie che prego sono due allora voglio dire che è necessario che le associazioni che sono qui si distinguono come dire dalle altre che ha già preso i dubbi sono capita se i prezzi sono stata consigliera comunale con la lista in comune e le delegate dei diritti civili e ciò più importante è che il linguaggio sia puntuale per cui si fa forza prima anche nella relazione del signor Bright c'è un costante noi e voi noi e voi noi e voi proprio perché il linguaggio non è un caso nella demotazione partecipativa se non è quello del plurale singolare noi e voi e così via è come dire vicola sostanza e significato in secondo modo credo che dovranno fare molta attenzione quando si dice grazie al ministro un po' di sembra delle cose perché non è così alcuni l'avranno saputo altri non l'avranno saputo però quando si fa una demagogia si è puntuale nell'informazione altrimenti è inevitabilmente la demagogia come abbiamo fatto con i diritti civili come sempre sotto accusa la sua stradministrazione io credo l'avranno fatti dei distingui perché quello che abbiamo fatto sui diritti civili è il documento formale di 200 associazioni di formazione che si sono venite a Roma tra il 22 e il 23 settembre è evitato un documento che è partito in tutti i comuni italiani e per me questa è la democrazia partecipativa è un ecco di livello nazionale quindi non eliminerei il contenuto le forme le pratiche di buona politica ma farei sempre dei distingui perché altrimenti come dire è un po' il scopo elettorale se inizia dall'anno zero e non si distingue ciò che è stato fatto di buono o ciò che è stato fatto di sbagliato invece la puntualità se quando si parla di competenze di conoscenza se questa è la grazia da cui si parte tutti noi ha la sua importanza irrinunciabile altrimenti rimane conoscenza del territorio che secondo me è fatto per la cittadinanza e non c'è della mia ragione il consiglio comunale della scorsa legislatura mi sembrava di leggere dalle tue parole almeno da quello io prima di scriverlo volevo chiederti l'opportunità il consiglio comunale è quasi inesistito perché chi comandava è la giunta è il sindaco allora mi permette di scriverlo scusate l'ho voluto chiedere per lei ci vuole che veniva vorrei fare quella comunicazione tecnica prego no no un diritto è la legge con è la legge dei poteri al consiglio comunale e dei poteri alla giunta comunale ma non ha mai sentito neanche il partito decideva decideva e poi obbligava il consiglio comunale approvato quello è il problema allora invece di scrivere in realtà il consiglio comunale scriverò alcuni consiglieri si sono diciamo sentiti chi vuole parlare chi vuole parlare in tutto il territorio quindi la cittadinanza era parecchio stanca e abbiamo organizzato con alcune persone i comitati e associazioni del luogo questa lista civica e abbiamo siamo riusciti a mettere lì con il consigliere qualche due e per poco veramente non potevamo parecchio il sindaco e la cosa interessante è che abbiamo fatto proprio partecipare alla cittadinanza come avete qui dimostrato ed è la strada giusta da percorrere noi abbiamo fatto anche il programma elettorale sulla base delle persone cioè noi giravamo per le frazioni la gente ci diceva cosa voleva cosa gli interessava fare abbiamo fatto il programma con tutta la cittadinanza e questo è stato il nostro programma e è stato accettato moltissimo dalla cittadinanza dagli abitanti quindi secondo me questa è la strada da fare noi non stupiamo più i partiti perché la cittadinanza italiana che ormai siamo stani in questa situazione quindi questa è la strada giusta e mi consiglio di seguirla grazie grazie non è stato peccato quella magna sulla marmellata insomma gli assessori eccetera erano lì e bisogna mettersi proprio una venda sui giorni per non sapere quindi secondo me e quindi io sinceramente non lo so dove si potrà arrivare non lo so dove porterà questa strada so che dobbiamo invocare questa strada perché è la strada giusta probabilmente non riusciremo a fare nulla ma probabilmente anche sì perché come abbiamo visto l'esempio di Udine è che il sindaco ci aiuta in qualche modo ci incita ad andare avanti perché dice che una buona politica è anche possibile e da erogista a continuare a farvi il ministro grazie grazie facoltà di architettura partecipo da sempre a nella misura del possibile a discussione politica premetto che mi sembra la questione sulle regole impostata così molto giusta molto condivisibile assolutamente da da proseguire ci sono dei punti anche molto chiari sui quali credo si possa cominciare a vedere dei punti fissi perché mi sembrano un po' le fondamenta mi scuso ma ho approfittato o prego la parola perché ho visto che c'era un attimo esigenza ma vado un po' avanti su alcuni temi per poi tornare su questo c'è un tema importante che fa parte sempre del dibattito è stato detto anche oggi dalla stampa viene molto spesso ripreso la famosa questione dell'idea di città visione di città progetto di città che manca questa è una delle tante cose che dicono tutti a questo punto è una delle tante allora così o come giustamente San Pizzo prima diceva ovviamente adesso dicono tutti che non va bene la corozione c'è uno che dica no io invece sono favorevole da andare avanti così no beh così allo stesso modo tutti parlano della mancanza di via di città anche mi sembra che siamo tutti d'accordissimo ma comunque questi via di città non c'è siccome sulle via di città sono cose limitatissime per le quali io mi trovo a lavorare all'università sia su Venezia e anche per il mio mestiere che nelle altre città del mondo c'è il problema è che la via di città ci vuole è che la via di città anche qui paradossalmente c'è che è molto nascosta ma non emerge mai perché c'è un'altra strategia non è che c'è un dibattito in cui c'è la possibilità di confrontare per esempio idee di verità di città come succede in molte città perché l'idea di città è una cosa molto complessa è una cosa molto ovvia e molto semplice adesso ce l'abbiamo e siamo tutti d'accordo potremmo essere anche molto in disaccordo ma a Venezia è successa un'altra cosa sta succedendo un'altra cosa che ha di fronte a svariati tentativi di esprimere idee di città dentro e fuori la nostra facoltà e l'elettura si è sempre opposta una mancanza di idee perché la strategia che ha portato la città a questo punto è appunto apparentemente non avere un'idea di città perché una politica di idee di città in cui il futuro viene costruito solo per interessi non può discutere questa strategia come una strategia invece descritta e spiegata trasparentemente perché sono due entità non come dire che non diamo allora il fatto che quando io mi trovo all'estero anche qui vengono tanti ospiti stranieri e tutti ci chiedono ma come ha fatto questi disegni progetti di studenti laboratori questo e quell'altro ma come mai la città cosa dice come mai non c'è traccia di tutto questo nel dialogo della città perché la città non dialoga con nessuno e perché la città non ha mai dialogato con nessuno perché la strategia della città non ha nessun interesse a dialogare con qualsiasi altra strategia che sia un vero progetto perché è una strategia di interessi prevalentemente di interessi occulti gli interessi occulti sono interessi di lobby e qui chiudo perché la questione del lobby è un potere immenso questa settimana c'è un numero di espresso per la questione dei lobby e quindi dobbiamo cercare di mettere appunto tutte le nostre energie perché la strategia non è che da adesso noi possiamo disegnare un progetto condividerlo che venga da qualsiasi parte discutere insieme e poi discutere con qualcun altro che ne ha un altro perché quest'altro non c'è il loro disegno quello che è andato avanti fino adesso resterà sempre un disegno che non viene rappresentato da nessuna parte e funziona per quello voglio dire solo una cosa finale la settimana scorsa venerdì ero in Germania per una cerimonia in una città dove ho lavorato a tutti dove c'era un sindaco uscente che esaltava il sindaco di Prante questo sindaco uscente ha detto io sono stato eletto sette anni fa in Germania ci hanno mandato di sette anni e quando sono stato eletto sono stato eletto anche perché uno dei punti cari della mia amministratura della mia campagna elettorale era cambiare lotta rispetto alle precedenti amministrazioni su un punto solo la città non deve più vendere il proprio patrimonio ma deve fare tesoro del proprio patrimonio e casomai aumentarlo e questo signore ha avuto l'onore di dire alla città che ci è uscito e che da una seconda dopo di lui dimana la città a un altro signore che ha contribuito non solo a non vendere ma addirittura ad aumentare il patrimonio di edilizia pubblica e di servizi social in maniera consistente ecco di questo credo che dovremmo spero di poter parlare i poteri dei lobby non vogliono non essere candidati nelle elezioni se ho capito bene come chiese Pasqua non ne hanno bisogno non hanno bisogno di candidarsi quindi ci abbiamo fatto un pezzo di candidati che si ritirano e se che poi però appena dei rappresentanti o dei delegati dei delegati allora bisogna capire come sono i loro delegati chi vuole intervenire? io tutte le persone gli anziani le persone che non hanno assistenza che sono degli ospedali i rapporti con le scuole con i servizi con la sanità è questo che dobbiamo censire è di cui se vogliamo pensare al bene comune è quello di vedersi maggi nell'altro cercare di capire cosa è importante per l'altro scusate io sono emozionata non sono abituata a parlare ma quando le cose si sentono bisogna avere il coraggio di dirle e questa mi sembra un'assemblea più importante per farsi antenne portavoce dei problemi degli altri riflettiamo sulle persone sole riflettiamo sulla condizione di chi di quelle persone che non sono mai state oggetto del pensiero delle persone che conoscono che non conoscono il suo sire che non conoscono la sofferenza e l'indigenza e agli indigenti non ci pensa nessuno perché come dire il salso non crede al digiuno e noi dobbiamo secondo me il momento che rivolge nella nostra attenzione la nostra sensibilità a queste persone se noi riusciamo a dare questo al paese alla nostra città probabilmente un segnale importante c'è altrimenti le diversità non si colgono basterebbe seguire l'onda del Parlamento le cose che ci erano proposte da Roma che non sono tratturabili perché anche il governo attuale sta facendo cose interessanti ma la città ha anche altri problemi e noi dobbiamo pensare conciliare conciliare quella che è la politica governativa perché dobbiamo a un certo punto condividerla per le cose convenienti ma soprattutto avere un principio di realtà capire quelli che sono i problemi del nostro paese quindi parlare anche di un'ordine far capire alla gente come si leggono i bilanci come sono fatti da chi sono redatti la sanità quanti sono i medici quanti sono i posti diretto questi bilanci che non devono essere condivisi in modi chiusi dove tutti in tutti i uomini siamo tenuti a capire io credo che ognuno di noi ha una propria intelligenza ognuno di noi ha un grande di capire e chi vuole far si capire è capace di arrivare agli altri quindi la gente deve avere il termometro della propria situazione della propria città capire lo stato di salute della propria città i servizi i trasporti tutto quello che è garanzia per la sopravvivenza per non parlare poi del lavoro ahimè questa è una cosa che voglio dire bisogna condividere con il Parlamento però ci sono delle cose per esempio tutto il mondo del volontariato sembrano molti assistanti invece sono realtà che vanno come dire veicolate la gente deve sapere che ci sono gruppi di ragazzi che lavorano per una comunità stop sono sottarchista per due anni sono stato portavoce del comitato non camminare non vorrei spegnere gli entusiasmi ma mi sa che bisognerebbe forse introdurre una nota di pessimismo io condivido pienamente quello che diceva anche detto non ho sentito il cognome prima sono perfettamente d'accordo non c'è tutto alcuno che c'è stato un disegno silente su questa città che si è manifestato per forza propria ed è arrivato frutto di una classe politica e a sua volta produttore di una classe politica che la classe politica di oggi sia informabile forse è un assunto che possiamo condividere tutti ma mi chiedo è davvero così peggiore della città che sta rappresenta cioè la domanda che ci dobbiamo fare è attraverso quale meccanismo possiamo illuderci io lo dico perché sono pessimista di costruire una classe politica diversa avendo dei risultati cioè rinocchendo ad ottenere l'elezione cioè non facendo quella testimonianza con le bandierine no perché l'obiettivo è quello di vincere no altrimenti che senso no allora la domanda prendinare secondo me che ciascuno di noi dovrebbe farsi è se io parlo della città d'Ama cioè non ho una conoscenza specifica insomma di Mestre della Ferma perché però il cancro che sta divorando la città sono di 30 milioni di turismi che ogni anno la visitano e che come un esercito di termini sta divorando la città stessa no il malessere che tutti noi vogliamo ciascuno in modo diverso è il frutto di questa invasione no che è destinata a peggiorare quando domani arriveranno i cinesi i brasiliani cioè diciamo i turisti dell'economia in Valgeti la città sarà distrutta allora il punto è tornare a un livello di sostenibilità turistica e quindi passare che ne so dai 30 milioni di oggi ai 10 12 che diciamo fino a quello posto dice essere il numero in qualche modo sostenibile come si pensa di poter vincere una campagna elettorale avendo come bandiera questo obiettivo quando la totalità della città la quasi totalità della città è invece coinvolta nel disegno esattamente gruppo di trasformare questi 30 milioni di turisti in 35 40 a 45 perché ci siano di un po' del maestro di un po' fermi più tassisti anzi meno tassisti però con il taxi ciascuno meno con gli evi però con più uomo di ciascuno perché c'è più c'è l'interesse di questi lobby che la torna salari ma che loro restino sempre i soli a mangiarla ecco allora mi domando se è bello discutere di come attrezzarsi per vincere ma bisogna neanche capire con quali canoni andiamo a combattere non solo su come organizzare l'esercito come decidere che fa il generale che fa il foriere ma decidere anche come procurarci le armi per vincere la guerra il problema è che inoltre chi ha governato questa città ha espresso interessi che andavano contro la comunità stessa questo è il tema vero questo è il tema cioè non è soltanto certo c'è un tema degli interessi che si tratta questa città infatti all'inizio si diceva è possibile costruire un interesse più grande un interesse superiore che costruisca sostenibilità perché il problema è anche dei condolieri o del ristoratore il figlio cosa avrà avrà un capitale su cui lavorare un capitale sociale su cui lavorare o gli lasciamo semplicemente il disastro quindi sta ragionando con un orizzonte di 5 anni per cui fra 5 anni questa città è morta distrutta o una città che continua a vivere anche di turismo il problema vero è che chi ha trovato questa città in questi anni ha assecondato gli interessi che portavano alla distruzione della città allora bisogna cambiare per quello le regole le regole per capire chi rappresenta gli interessi poi certo dobbiamo discutere quali interessi rappresentabili le due cose non sono alternative tutte e due dobbiamo discutere chi tocca provo a dire le due cose intanto mi presento sono Francesco Zanno uno studente di economia del turismo Caposcai e niente c'è un primo passaggio che è quello della definizione del programma e sinceramente credo che forse sia quello più tre virgolette semplice dopo mi spiego meglio quello che mi preoccupa di cui invece forse è il secondo passaggio cioè un giorno arriverà un sindaco il sindaco di Venezia e eletto in base a questo programma quello che mi preoccupa di più è proprio l'attuazione del del programma elettorale e adesso mi spiego meglio cinque anni fa il sindaco che è stato eletto è stato eletto in base al programma e quindi è un programma appunteta io probabilmente non l'ho neanche cioè non l'ho letto cinque anni fa non mi ero ancora interessato più di tanto però dopo il che vi dico l'indu era un buon programma un bel programma un programma che parlava di residenzialità un programma che parlava di turismo di economia di nuova economia quindi questa è una domanda che lancio quello che mi preoccupa non è tanto questi tre mesi quattro che ci troviamo a definire il programma e questa è la mia preoccupazione probabilmente se uno leggerà i programmi dei diversi segmenti mi spiego sarà difficile dire no questo non mi piace o il dio no quello no perché è anche il punto più cattivo io sono sicuro che tra cinque mesi ci troveremo li leggeremo li metteremo a confronto e saremo sicuramente stupiti da quanto no quanto belli saranno quanto simili sì anche simili cioè quindi la mia preoccupazione sarà non tanto in questi cinque mesi che ci troviamo sarà il tempo insomma grazie io faccio solo una osservazione abbiamo una enorme responsabilità nei confronti del mondo non mi confronti solo dei nostri cittadini Venezia è una città del mondo e quindi dobbiamo fare in maniera chi verrà candidato a fare sindaco sia un sindaco sia un sindaco che può parlare con il mondo non possiamo mettere la figurenta e neanche non possiamo fare una giunta di figurenta come avevamo fino adesso dobbiamo trovare gente che possa dialogare con il mondo se non ne abbiamo chiediamo al mondo di mettere qua qualcuno a darti una volta qui a praticare i corsi della politica trasparenti eredi non tanti quindi già abbiamo il ricordo della volta scorsa che possiamo dare alla fine e dell'assemblea che abbiamo tenuto qui a luglio ed è bene che siamo di più voi partecipate a questo percorso anche di costruzione del finanziamento potremmo inizia buonasera di turista venezia vive turista e questo è così esiste un concepto che si chiama consumo cultural integrazione e in questo è la clave di poter assimilare il turismo e fidelizzare e conseguire il turismo il turismo è una piaga bisogna orientarlo bisogna essere in grado di dirigerlo di costruire un modello di orientamento culturale in questo punto del turismo di costruire la cosa che voglio parlare è in breve le parole costruire un po' il processo che ho vivito in spagna nel tempo del 15e che è un po' che lo conoscete il 15e fu una esponuzione popolare che tomò il centro di padri e si muoviò a través di movimenti asambleali vorrei raccontare rapidamente quello che è successo in spagna il movimento comunale interattore 15e maio si la prima fase fu una toma della Puerta del Sol che è un lugar imprenomatico di Madrid hubo una gran expectazione di tutti i interni di Cortai di Guardian eccetera però se tratò di articular grandi asamblei impiabili per il numero del gente che chiede partecipare la gente ha organizzato il processo della partecipazione iniziata al centro di Madrid al 4 del Sol però chiaramente la partecipai con molta attenzione internazionale dei mass media e della stampa internazionale e il problema era come poi rendere gestibile l'assemblea dal punto di vista di questa partecipazione del 4 di questa partecipazione 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 che è di questa partecipazione di questa partecipazione di questa partecipazione su questi servizi si creano delle aziende a Venezia ha preso il problema della mobilità la CTV la SNS l'acqua e i rifiuti i veritas c'è tutta la parte di agenti che ha gestito c'è anche un siti manager dovrebbe esserci l'NG manager del comune allora mi chiedo vogliamo affrontare questo problema le municipalizzate le partecipate la presenza nel comune della gestione economica di questi servizi se voi pensate all'occupazione che sono CTV o Ami o Pea scusate siamo ai tempi 50 anni è un blocco interessante consistente sulle tre tecniche principali di questa partecipazione allora l'elezione della direzione e la decisione di queste cose la diminuzione del numero degli amministratori rendere queste aziende partecipate cioè chi fa un discorso innovativo sulla gestione dell'acqua ovviamente dell'acqua sulla gestione della mobilità che è un problema con l'impatto sulle città con il tipo di percorso di percorso di percorso insomma di portare un elemento di partecipazione sociale di partecipazione ambientale a dare queste cose ridefinire i modi di elezione di queste cose credo possa essere un elemento che interessa a Venezia Cambio lo proporrei come uno dei temi da elaborare perché mi piacerebbe che una delle prime a delibere che fa il prossimo consiglio comunale sia quella per esempio che trasforma queste aziende da SPA cioè aziende che devono produrre un profitto che probabilmente poi dovrebbe andare a rinforare in qualche modo le casse dei comuni ad aziende speciali pubbliche partecipate cioè in cui le eventuali entrate fanno parte della possibilità di migliorare il servizio dell'acqua il servizio di tutti e quant'altro e su come eleggere le direzioni gli amministratori di queste cose credo sia uno dei temi che noi se siamo una proposta di governo dobbiamo fare ai servizi che questa città e alle aziende che governano questi servizi grazie quello che voglio tento di dire è che chi non è professionista della parola o non è abituato a intervenire in queste assemblee ha un po' di difficoltà la mia paura è di dire delle cose banali e scontate però il problema che io vorrei puntare è questa città non ha abitanti questa città perde abitanti in continuazione per cui un programma politico deve tener conto di un programma di ripopolamento perché se no è fatale che le poche persone che restano non potranno affrontare i costi delle ristrutturazioni e di tutto quello che comporta l'avere palazzi che crollano e poi anche il fatto che più persone arrivano in una città e più si diversificano le attività economiche cresce la cultura e crescono gli stimoli per tutti grazie grazie il discorso è stato prima sulle partecipate in realtà noi 4 anni e mezzo fa non abbiamo letto nessuno dovevo delle partecipate abbiamo letto lo sito comunale lo sitaco e poi è successo successo ma le abbiamo dato come scritto prima la scatola chiusa quindi vorrei portare il discorso sulle regole che abbiamo avanzato prima in otto nuove schede l'ultima scheda è la scheda bianco è la numero 12 9 vuol dire che si può bene aggiungere nell'altro naturalmente le nostre proposte possono essere comunque migliorate giustate il problema è è facile fare anche delle regole per noi che siamo dentro questa sala in San Leonardo magari riusciamo a condividere ma il problema è che noi siamo oggi con una piccola violenza quindi la questione che pongo è quella di fare in modo a tutti noi delle possibilità che ha ciascuno che in qualche modo si possa intuire sul resto di Venezia e sul resto delle informazioni di politiche di Venezia questo è lo scopro certo che è un obiettivo abbastanza difficile perché dall'esistenza sappiamo che ci sono ci sono delle cose che viaggiano diciamo al loro modo perché è così perché è più semplice perché c'è un'altra questione importante cioè noi vogliamo che i programmi siano messi in chiaro e in coranti per dire futuro dell'amministrazione questa è una piccola regola elementare fa faccio vedere su Polignio che così non è stato per l'amministrazione precedente che magari aveva anche un programma che qualcuno ha detto molto meglio anche di numeri c'erano anche 5.000 nuovi alloggi ma non ne abbiamo visto 5.000 sappiamo niente quanti forse si fatta non lo so ecco quindi programmi chiari concreti e misurabili potrebbe essere una regola del prossimo futuro se qualcuno di voi vuole contribuire con parole sue le sue indicazioni alle regole che poi rielaboreremo insieme quindi io vi passerò a un po' lì e poi voi fate il buon giorno grazie buonasera sono Martina Simonasto con titolare della vita sull'arretro e me e volevo dire una cosa vi rendo conto come del commerciante che purtroppo la vecchia amministrazione ha venduto le nostre aziende ha venduto il vetro di Murano chi ha attività commerciali sull'arretro è costretto dallo Stato italiano dalle nostre leggi praticamente stupide che ci danno la possibilità di vedere il vetro cilese la mia proposta è fare un'ottima proposta strategia come potremmo fare questa cosa potremmo utilizzare i nostri prodotti andando a fare pubblicità sulle navi e portare il nostro prodotto all'estero con gli import export prima cosa seconda cosa non voglio vedere cilenti che aprono lo stesso tipo di prodotto fa la confusione ma soprattutto la vecchia amministrazione iniziando dalle due amministrazioni di cacciare ci hanno in tutto i gioielli della città come dobbiamo fare dobbiamo avere candidato sindaco una punta che ci deve aiutare dobbiamo noi cittadini aiutare gli altri cittadini ma avere e pretendere dalle istituzioni un linguaggio semplice e soprattutto corretto che cosa intendo dire intendo dire semplice sulle cose come ad esempio il discorso delle navi come ad esempio il commerciale non è possibile che se io viaggio nella mia città sogni volte ci sia una persona di colore per diventare le borse questo mi porta altamente confusione ma allo stesso tempo io devo essere coerente perché io sto pagando delle tasse alla mia provincia alla mia regione ma soprattutto alla mia città e io ho poche cittadina ho il diritto di sapere come dobbiamo e come e come a esempio stai con investiti i nostri sogni perché è una cosa che ci serve e dobbiamo essere grassalenti grazie 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 a tutti i nostri 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 questo anche per il Veneto sta emergendo un'idea che spero possa essere realizzata quindi gli stati generali della società civile qui in Veneto e in Venezia ovviamente sarebbe centrale dentro questo discorso sotto la nostra sera democrazia locale dove locale non significa l'orto dietro a casa ma significa alla dimensione avverso di globale, quindi è una visione del mondo che si contrappone alla globalizzazione che intesa come il mare profondo della nostra epoca. C'è una frase che direi di Franco Arminio, giornalista ma è un grosso esperto di paesaggio e lo difende a spada tratta e dice la politica che c'è ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è. Allora faccio sento all'intervento dello studente di clima, di scienze, scienze del turismo, mi sembra che abbia detto una cosa estremamente importante, lui ha soffietteso quello che Arminio dice, cioè la politica che non c'è, ne perdonate la franchezza ma credo che responsabilmente siamo tutti impegnati ad uscire dallo stato di cose, si è detto della politica, si è detto dei partiti e in termini profondamente negativi. Questo programma va bene, va bene, se lo si vuole firmare, va bene, ma è il programma che manca di politica, cioè qui non c'è la politica, perché la politica non si fa col programma, si fa con il progetto, non c'è un progetto. E allora il progetto vuol dire un po' di cose, del città 5 e poi bisogna reclinarle anche sull'energia, sullo specifico di questa realtà, di tutte le realtà locali. Il rispetto della carta costituzionale non è una cosa solo di grande valore, è il fatto che la riforma del titolo quinto ha annientato l'autonomia locale, di che comune stiamo a parlare, che non esiste più. Le operazioni a livello europeo hanno annientato ancora l'autonomia locale, il fiscal compact, il partito di bilancio, la politica nazionale di taglia la spesa pubblica e dei sacrifici imposti alla regione e ai comuni è totale, oltre il potenziamento del debito. La riacquisizione della sovranità dello Stato come del Comune, che non esiste più. Dicevo stoppare la politica di taglia alla spesa pubblica, qui o siamo tutti dementi per guardarmi all'interiore franchezza, oppure abbiamo mandato il ciattato all'ammasso. Non c'è una variabile economica che sia migliorata, anche se io non credo al PIL, il PIL si è passato, la disinunfazione si è alzata, la spesa pubblica si è abbassata, si sono abbassati, si è parlato di servizi, di welfare, eccetera, eccetera, di gente sola e abbandonata. Tutto questo è negativo e come facciamo a sostenere la politica ancora dei tagli della spesa pubblica? Questo è demenziale, dobbiamo dare quello che diceva Cese, vigante della demenza collettiva se non ci ripetiamo verso queste cose. Il significato del ruolo degli enti locali è considerare lo stesso concetto di locale, che è un valore, è una visione del mondo, è il governo della comunità insegnata. Ecco, allora io penso che bisognerebbe fare questo passo, ossia darci un progetto che abbia dei valori fondamentali per cambiare questo stato di cose, perché all'interno invece della realtà così come è, bisogna fare del buon volontariato, avere dei valori, queste cose scritte lì sono da sottoscrivere, se no non produrremo alcun risultato. L'ultima cosa che cito, sulla storia dei servizi pubblici, dal 90 gli Stati Uniti dell'America con l'Europa stanno patteggiando e ci stanno riuscendo, tant'è che dov'avamo a santificare questo e dal 90 che andiamo avanti perché 600 multinazionali da qui a poco prenderanno in carico tutti gli investimenti sugli utiliti nazionali, i servizi, la sanità, salute, eccetera, eccetera, l'assistenza, l'acqua, luce, gas, quelle sono certe come profitire, se no che la tagliano. Bene, ci sarà un triunvirato di tre avvocati della Banca Mondiale che deciderà sulla chi ha ragione tra la multinazionale o il comune di Trenasenige o di Marbocco di Venezia o di Monta. Questa è la politica che è chiaro davanti, o ci appogliamo a questa politica, altrimenti faremo delle cose giuste, vanno a parte, dobbiamo impegnarci a tutti i livelli, però ci vuole la proiezione, sennò anche la presa sarà una politica, per l'acqua. Grazie. Sai, sono domande, volevo dire una cosa ai Nicola e alla Camilla e a tutti quelli che ci sono qua, noi non abbiamo detto che non vogliamo che muoiano tutti quelli della faccia dell'amministrazione, abbiamo detto solo la non ricambivabilità, nel senso che ci sono stati assessori, purtroppo non sappiamo se siete collusi, quindi preferiamo per non rischiare che non ricambiviate, non la vieta di partecipare a queste SLE come cittadini, anzi, se voi avete da dire qualcosa, partecipate, noi vogliamo sapere come funzionano le cose. Ci fa molto piacere sapere che probabilmente non tutti gli assessori della precedente amministrazione erano collusi, gli amministratori in generale, quindi dagli assessori poi, non c'è nessun problema, tra l'inter ce l'ha da contare, perché sennò non possiamo crescere, se il nostro unico scopo è ricambitarvi è un po' più difficile. Un'altra cosa, per la partecipazione c'è un panchetto all'entrata dove vi invito sia l'opolo, ma soprattutto la mail, così vi possiamo ricontattare ed è possibile sentire. Dopodiché andiamo anche a vedere che cosa faremo in futuro, e sempre quel panchetto, magari, noi abbiamo intenzione di iniziare un tour per la città, una sorta di tour per andare quartiere per quartiere a cercare di capire come funzionano le cose e quali sono i problemi. Magari, visto che quelli che hanno fondato questa associazione sono in gran parte veneziani, sarebbe anche importante rompire la maestra, quindi se qualcuno, di qualche associazione del maestra, eccetera, ci volesse lasciare un invito per poter sentire le sue opinioni, i suoi problemi, direttamente, benvenuto, sono là in panchetto, vi aspetto. Grazie. La domanda è come? Quali sono le forze sociali con cui lavoriamo? Quali sono gli interessi che andremo a toccare molto nel vicino, che qua bisognerà scontrarsi e confrontarsi? Quali sono le risorse su cui contare? Perché altrimenti, se no, alla fine dei 5.000 alloggi della volta scorsa, per cui gli sassi può tenere 5.000 alloggi, io questa città, non è una comunità, non c'è neanche la comunità dei veneziani che fa tutto fuori dei veneziani, è una società complessa, è una comunità in cui ci sono tanti interessi, gruppi sociali che hanno una posizione, hanno un interesse, ma anche visioni che fa un posto in questa città. E quindi, come si fa alcune cose, è altrettanto importanti, cosa e il futuro. Grazie. Io sono Davide Scano e la gentilezza di Gian Pietro che presento sono uno dei candidati possibili, candidati sindaci, quindi sono venuto qui, si diceva che probabilmente sono l'unico perché probabilmente gli altri sono tutti da Salvatore, adottere Monaco. E questo però mi fa dire una cosa, mi fa imprendere, cioè qui secondo me, per quelle cose che ho sentito, le slide che ho visto, c'è l'innovazione, c'è la novità e la freschezza anche di Ile. Di là probabilmente, non me ne vorrà Salvatore, ma ho tirato fuori un po' dalla nastadina per fare chissà che operazioni di stampelle al regime, insomma, che è trasversale, che c'è un monopartito unico che ha retto l'amministrazione, insomma, negli ultimi cinque anni. Io dico solo due parole, come Movimento 5 Stelle, sulle regole che sono state buttate giù, penso che condividiamo tutto il 99,9%, insomma, la questione dei soldi, di come si fa la campagna elettorale, la questione delle competenze, noi, quelle poche amministrazioni in giro per l'Italia, sono state tutte scelte, diciamo la giusta, la squadra di governo, quindi tutti gli amministratori del partecipato in base alle competenze, quindi con curriculum. È una battaglia che abbiamo fatto già adesso, in questi ultimi quattro anni, ricordo soltanto il caso di Venice, la società che si occupa di informatica del comune, lì hanno messo uno che è stato, che si è laureato a l'ISERF, cioè è uno sportivo, insomma, quindi non aveva alcuna competenza, alcuna attività con l'aspetto informatico e di innovazione tecnologica. E questo, secondo me, è un altro punto, quindi competenze non solo per gli assessori e i consiglieri comunali, ma competenze anche per quelli che andranno a gestire i 6.000, quasi 7.000 dipendenti delle partecipate. Cioè noi abbiamo un esercito di persone, di personale comunale, bar comunale e al contrario di quello che ha detto qualcuno prima, io l'ho già detto in altri contesti, sono per la chiusura di alcune partecipate. Cioè il comune di Venezia ha vissuto molto al di sopra delle proprie possibilità, per tantissimi anni, la struttura va ridimensionata e calibrata ovviamente non per diminuire i servizi, ma per diminuire la sovrastruttura, tutta questa pletora di quadri e dirigenti che è stata creata e ovviamente senza lasciare a casa nessuno, ma piano piano va riassestato tutto il sistema, meno clientelismo, più concorsi, più gare, più gare d'appalto, meno clientelismo, ho già detto tutto con la parola. Vi ringrazio e sui temi ci confronteremo alle altre serie di sessioni, insomma, grazie. Allora, per questo punto, siccome vogliamo provare a chiudere alle sette e mezza, due cose proprio rapidissime. Sulla questione del tema non è che alternativo, ripeto, regole e contenuti e programmi. È chiaro che ragionare sulla costruzione di un programma significa un percorso. Noi abbiamo cominciato, abbiamo cominciato con dei tavoli di lavoro, dei documenti, dei documenti che vorremmo portare nel senere a poter discutere assieme e quindi entrare nel vivo delle questioni. Faccio un esempio, il turismo, numero programmato, sì, no, bisognerà proprio discutere queste cose. Sulle partecipate, qual è la posizione? Quella di costruire delle strutture che siano effettivamente di servizio pubblico effettivo, quindi basta della favore del diritto privato. Cioè, ci sono una serie di questioni che vanno discusse. Però le regole che si stiano, adesso quello vorremmo provare rapidamente con tutti a scorrere e a vedere se ci sono delle obiezioni da parte nostra, perché sulla prima, per esempio, il finanziamento è una campagna elettorale. Il massimale lo chiediamo e diventa condizionante dichiarare qual è il massimale e condizionante dichiarare quali sono gli sponsor dei finanziatori durante o dopo, durante. Se c'è una società, se il porto decido di dare uno sponsor a qualcuno, lo vogliono sapere adesso o dopo? Se una società che oggi nessuno la conosce, no, che lo dichiariamo, è una messa, che sia chiara. Qual è il massimale per ogni finanziatore? C'è un minimo e un massimo? Oppure può direttamente dare quello che vuole? Io penso che queste cose siano fondamentali. E costruire, fare in modo che ci siano luoghi, quindi un sito internet della documentazione accessibile a tutti, in cui uno potrà dire che il Partito Democratico riceve soldi da Tizio e da Gai, nella società X e nella società Y, mentre la Forza Italia viene generata. Questa è fondamentale o no? E questa regola è importante applicarla o no? Faccio un altro esempio sul discorso dei servizi professionali. Ci sono, e di questo bisogna dire, le pratiche, si sanno, qualcuno che dà gratuitamente un servizio professionale. Dopodiché magari viene ripagato dopo, quando si vincono le elezioni, con appanti, con contratti, eccetera. È accettabile questa cosa? No. Se io so però che questa persona ha dichiarato la propria deduzione liberale come servizio... Visto che ci sembra di aver capito la tua posizione, adesso, rapidamente, chi ha qualcosa da dire su questo tema e su questa regola? Perché così la diamo per acquisita o meno dalla sedea. Nel senso, qualcuno ha qualcosa da dire sulla assoluta trasparenza dei contributi, qualcuno ha qualcosa da obiettare, altrimenti passiamo poi alla seconda. Queste sono delle proposte. finanziamenti da istituzioni o le comprese che hanno rapporti con la pubblica amministrazione concetto. Ecco, questa è un'aggiunta che noi prendiamo e aggiungiamo a questo decalogo e lo riproponiamo poi nelle regole comuni. Qualun altro? io scluderei dal finanziamento, lascerei il tetto individuato alle persone fisiche, se uno va a dare 100.000 euro, che li dia? Ma come persona fisica? Le società sono un qualche cosa che non sono. Quindi le società, che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, ancora meno, ma che tutte le società non possono, anche perché poi hanno un considerato di scala su questo, non possono contribuire alle campagne. Beh, Carlo, due. Sì, grazie. Allora, se su questo non ci sono altre osservazioni, noi ne teniamo conto e formuleremo chiaramente, prepareremo il documento con l'integrazione. Secondo punto rilevantissimo. Un rapporto istante, non un rapporto istante, non un rapporto istante, non un rapporto istante. Ok, un rapporto istante. Ok. Allora, regola numero due. Sugli ex amministratori. Queste persone che hanno avuto responsabilità come assessori, che hanno avuto rilevanza, questo è un tema che non abbiamo esplicitato prima, che hanno votato atti di libero risoluzione, che hanno avuto una rilevanza da un punto di vista dell'impatto ambientale, sociale, economico della città, che possiamo fare una maggioranza. Gli amministratori, le posizioni attuali, gli amministratori di società partecipate, nominante da lei di amministrazione. Queste persone, secondo voi, sono candidabili in un processo di nome o no? Questa è la domanda. E se sì, perché? E il limite dei mandati? E il limite dei mandati? Due mandati sono sufficienti? Come consigliere comunale, per esempio? Scusate, io sono forse controporrente, ma io credo che il limite dei due mandati sia una cosa sacrosanta, però dovrebbe essere applicato a tutti, in tutte le migliori. Non credo che l'esperienza di qualcuno che ha fatto il consigliere o l'assessore deve essere tutta da lì, perché non è detto che queste persone siano compromesse, anche se hanno contribuito a un bilancio sbagliato, e sul bilancio vorrei aprire una piccola parentesi. Il bilancio del comune è stato forzatamente portato al disastro dal fatto di stabilità. Quindi, inutile che andiamo a raccontarci storie. I comuni sono appossati per questo. Quindi, è qualcosa che è uscito dalla capacità dell'amministrazione. Posso ripetere su questo poi questione? Solo una nota. Le competenze non vanno buttate nel gestino. Si può partecipare con memoria, pratiche, esperienze, anche in posizioni non applicate, non di responsabilità di prima fila. Io penso però, nell'altra parte, che le responsabilità sull'accattivo governo della città ci sono. Quindi, se io chiudo, come adesso c'è una regola sugli amministratori che conoscete, se io non chiudo il bilancio due modi in rosso, autunno è illegibile. Io penso che abbiano chiuso il bilancio in rosso insieme. A bilancio in rosso non solo il bilancio del comune, entrate e uscite, lo hanno chiuso anche la possibilità dell'impatto della mancanza del governo, dei processi economici e sociali della città. Questo è un giudizio politico, evidentemente. È un giudizio politico. Per questo, io ho trovato l'idea che ex assessori non possono proprio esserci. In questa situazione è inibitabile. Non so niente. Non so niente. Per quanto riguarda il bilancio, per esempio, io non sono proprio d'accordo rispetto solo dalla mancanza di trasferimenti che è stata l'amministrazione. Io penso che di fronte a una mancanza di finanziamenti, un'amministrazione che vuole confrontarsi, apre il dibattito pubblico per decidere dove tagliare, cosa vendere, cosa risparmiare. Tutto questo non è stato fantastico. Quindi c'è quello e ci batteremo in qualcun altro momento, guardando, come dire, la politica nazionale, ma rispondendo di quella locale, occorre una trasparenza e non può essere meccanicamente attribuito alla politica crudele e difficile. È stato un voto che ha permesso tutte le migliazioni che ci sono state in questa amministrazione. faccio notare che, tra l'altro, a conferma dei previsti cristiani, tra il 2011 e il 2012 abbiamo proposto, con vari cavoli e varie riunioni, l'istituzione di un percorso di processo di bilancio partecipato. Questa cosa non ha avuto alcuna risposta, nel senso che noi abbiamo incontrato, Sandro Simeonato, vice sindaco, assessore al bilancio, abbiamo incontrato una serie di esponenti di quell'amministrazione, oggi che non è più lì, e questi non hanno assolutamente considerato questi voti, dicendo che non era praticabile. Salvo poi effettuare dei tagli, mi sono andati in quella direzione. Perché io penso che una cosa più scandalosa politicamente è sentire oggi degli ex assessori dire che si stracciano le messe di fronte ai tagli realizzate dal commissario del Palotto, poi in realtà hanno fatto esattamente la stessa cosa negli ultimi anni, in termini di tagli, anche sulla spesa sociale, di allenazione del decreto patrimoniale del Comune, di svendita di conoscenza dei servizi, di aumento delle tariffe e sappiamo quali. Allora, io non capisco perché uno che ha delle responsabilità e non è riuscito in qualche modo a modificare la sostanza del buon governo, anche finanziario del Comune, oggi uno deve fare un passo indietro. Questa è la questione di fondo, credo, perché altrimenti non c'è rinnovamento. Se qualcuno oggi ha delle idee nuove, per esempio io ho ascoltato e stiamo ragionando su queste cose, su possibilità di introdurre altre risorse, ci sono le possibilità di introdurre altre risorse, non è meno che, altrimenti se la logica è soltanto quella del tagliato di spesa, probabilmente non si vada nessuna parte, ok? E anche all'interno, facciamo un esempio, chiudiamo il bilancio della società, del Comune di Venezia, perché se il problema dei 30 milioni di turisti sono una piaga oppure sono un problema, io non credo che questa città si possa permettere di spendere risorse pubbliche per fare promozioni, mi pare un controsenso, promozioni di cose, da flusso turistico non governato, innanzitutto cominciamo a governare flusso prima di fare i partiti e non andiamo magari a casa anche chi ha le responsabilità su questo, ora! Sì, sono Anna di Sagionello, abito a Mogliano-Gaineto, ma sono una cittadina, ho sempre citato a Venezia, per cui conosco bene la città. Io sono molto d'accordo con questa regola che non può essere candidabile, chi ha fatto parte, in un qualche modo, anche solo come consigliere comunale di queste ultime amministrazioni, perché in ogni caso, anche se non aveva delle responsabilità dirette, ha avuto la responsabilità di non denunciarle, di non rendere pubblico il Consiglio Comunale e di non fare delle azioni contro chi si sapeva o comunque si ipotizzava fosse compromesso. Quindi, come minimo, c'è una colpa di conività. Io aggiungerei che tra l'altro, tra le persone non candidabili, devono essere considerate anche tutte quelle persone che negli ultimi, come minimo, ultimi cinque anni hanno ricoperto ruoli di responsabilità o comunque hanno fatto parte dei consigli di amministrazione delle banche e delle fondazioni bancarie, perché banca, finanza, cultura e politica sono un unico grande impasto, perché Peneto Banca non è un'entità a sé stante, perché i finanziatori sono o la banca direttamente o la fondazione o comunque sono un braccio dove i politici o coloro che vanno da controfigura i politici, perché siamo molto attenti anche su questo, perché esistono i politici che non si mostrano completamente con la propria faccia, ma che vanno da fantasma e dietro c'è qualcun altro. E quando stiamo parlando di contributi e di finanziamenti, se parliamo di fondazioni bancarie, mettiamo in gioco l'economia complessiva e finanziaria di una città. Allora, iniziare più rapidi, su tutta la terza di positiva, evidentemente oltre all'orientazione del proprio curriculum, dell'esperiente professionale e politica e delle attività realizzate in passato, è fondamentale che ci sia una dichiarazione esplicita, misurabile dopo, da un punto di vista dei possibili conflitti di interesse di questa persona, evidentemente senza dipendente quella giustizia. Ecco, questo è un tema rilevante, veniva fuori anche ieri sera sul patteggiamento. E' chiaro che se c'è già un patteggiamento, è una missione evidente di colpa e di responsabilità, quindi su questo non è che i patteggiati possano rinascere candidamente come nuovi politici o persone politiche. E allora? No, 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 sono d'accordo. D'accordo, ma che è ancora? Ci sono obiezioni su questo? Osservazioni, integrazioni, punti di non chiare? Andiamo avanti, la quattro. Allora, è importante non soltanto i candidati sindaco, ma tutte queste regole vanno anche per le persone che in qualche modo fanno la squadra, questo l'abbiamo detto più volte questa sera. Orsoni ha detto, ah ma io non sapevo quello che facevano, perché è una mia critica alle primarie di coalizione così come sono oggi concepite. La logica è, la coalizione scrive diversi candidati, il candidato che riceve più preferenze diventa il candidato ufficiale della coalizione. Tutti noi sappiamo che esiste una regola non scritta per cui gli altri candidati si scambiano o definire la squadra di giunta. Ecco, io penso che questa sia una cattiva pratica. Cassone dichiara la sua squadra, Molina dichiara la sua squadra, Ferranza dichiara la sua squadra, ma anche la società civile, ho sentito che Giovanni impenentato può recandidarsi, che dichiara la sua squadra. Ognuno dichiara la sua squadra. E questa regola rende tutto più facile da punto di vista della comprensione di cosa accade. Perché altrimenti il tema degli interessi di cui parlavamo prima, il piano, diceva Orazio, di questa comunità, lui diceva, è una comunità. Perché? Perché gli interessi sono divergenti. Ma se la logica è semplicemente prendere la sommatoria degli interessi divergenti, cosa interessante che ne possa uscire dal punto di vista di una proposta di governo della città? Nulla ha messo. Ed è quello che è accaduto in questi anni. Bergamo seguiva i propri interessi, Mettini seguiva i propri interessi, Farinera seguiva i propri interessi, cioè membri di quell'Azionale. Ognuno aveva un pettino. Nessuno aveva un'idea vera del governo composto e complessivo. Allora, la questione è che il sindaco, perché questa non è una questione da poco, il sindaco si è dichiara la propria squadra, sta dicendo che ha anche un progetto di governo della città. Cosa ne ha pensato? Toglierei almeno. Togliamo almeno. I nomi principali della loro squadra. Cosa ne ha pensato? Ci sono debetti su questo? Che importante è questo? Cosa ne ha pensato? E' quattro assessorati. Sicuramente, allora, il discorso di democrazia c'è anche spazio poi per pluralità, ma passiamo dall'estremo all'altro. Però ci sono gli assessorati di peso. Chi sta al bilancio? Chi sta alle politiche sociali? Chi sta all'urbanistica? Sono assessorati che definiscono le grandi scelte della città? Sì o no? Ecco, queste non possono essere distribuite. Chi sta ai trasporti? Ma ne ha anche altre funzioni importanti. Ci sta alla cultura, perché bisognerà che rinasca anche una funzione vera di politica culturale che stiamo cercando. Tutte queste cose non possono stare nel manuale ciccelli della distribuzione un po' a tempo a me. Dopo, quando già mi hanno votato. Col battito di mani è stato... Allora, assessori, io volevo aggiungere sulla questione però dei piani di insuratori nelle società partecipate. Anche qui faccio un esempio, ma non perché ce l'ho particolarmente con lui, ma sapete chi è l'amministratore di Reicas? L'amministratore di Reicas, che è Razzini, è stato scelto da Massimo Cacciari, eh? È stato scelto da Massimo Cacciari nel 2006 ed è ancora lì. A chi risponde l'amministratore delegato Razzini? A chi? A chi risponde? Io voglio sapere quando lui decide di modificare la struttura, o di tirar fuori dal cassetto il progetto di portazione in borsa, o va a negoziare per la fusione con l'era, perché questo stanno preparando. Voglio sapere chi è mandato politico a questo signore, chi gliel'ha dato. E quel mandato politico va ritirato immediatamente, perché lui non rappresenta oggi le scelte della città. Non può decidere la fusione con l'era in una multiutilità gigantesca che sfuggirà completamente a qualsiasi governo territoriale. È chiaro? Allora, disegni di questo tipo, ce n'abbiamo tanto, ma non è proprio che gli senti. Allora, io mi chiamo la signora Bertotto, voglio solo dire una frase riguardo le pendenze con la giustizia. Perfettamente d'accordo, però bisogna anche valutare pendenze e pendenze. Cioè, voglio dire, chi ha pendenze con la giustizia, tipo, è Calani e quelli che hanno manifestato il canale della giustizia contro le grandi navi e ci sono peccati, multe, tramunte, denunce, qualcuno o più di una, allora anche queste purtroppo sono pendenze con la giustizia. Allora direi che qui bisognerete anche valutare, perché molto spesso quando si fa movimento si incorre in queste pendenze con la giustizia. Attenzione. Allora, andiamo rapidi, andiamo avanti. Cinque. Volevo solo dire che c'era scritto che si sappiano le pendenze, non contagniamole in qualsiasi cosa. Quindi, informazione sulle eventuali pendenze con la giustizia, che poi assicura. E, sta tutto bene, una cosa sola sugli assessorati di peso. Visto che stiamo a Venezia, un assessorato di peso potrebbe tornare a essere un assessorato al turismo. Visto che questa città ha avuto degli assessori al peccolo, ha avuto degli assessori a cose strappalate. Intanto il turismo, le politiche del turismo non facevano i privati, o i poteri forti dentro questa città, e noi avevamo un dirigente e un assessore che parlava e fa chi ha più. Fanno diventare un assessorato fondamentale in questa città. Discutere di Venezia senza turismo e discutere di Torino senza Fiat negli anni Sessanta. Ci vuole qualcuno che dentro l'amministrazione tenga le regole. Noi avevamo un assessorato alla cultura che faceva il turismo. Questa è la verità. No, sugli assessorati sarebbe interessante visto il dipeso. Non è detto che siano gli stessi che ci sono oggi perché il territorio che viene oggi governato dai trasporti, l'urbanistica, le cose, in parte dell'ambiente, ecco, si può anche ragionare nella discussione che faremo più avanti sul programma e su come rispetto a certe opzioni programmatiche a funzione ci sia un ente in governo, sia esso ogni termine comune, sia esso il discorso delle municipalizzate, quali visual. Ecco, tutto questo ragioniamo, come dire, anche rinnessuallando le carte. Comunque, per quanto riguarda lo step attuale, va bene così. Ok, grazie, maestro. Allora, vediamo rapidamente. Allora, il confronto preventivo in pubblico e regole condivise, requisiti per percociti. Quello che stiamo facendo adesso diventa strutturale, cioè tutto il percorso che porta alla formazione del programma, certo che è complicato, ma va fatto così, cioè va fatto con percorsi che permettono ogni volta di dire siamo arrivati a questo punto, lo condividiamo e andiamo avanti. E questo è il percorso di costruzione di un programma che non diventa più elettorale, diventa un programma di patto fiduciare con la città, perché impegna già tutti quanti che quelle cose lì si fanno. Non si scriveranno più cose che tanto per raccontare, non si possono scrivere 5.000, se non si è sicuro dell'incorso che si si apriva, si arrivano a 20 di piedi, se ci sono le risorse e come andare a cercare le risorse. Però non può esserci neanche l'alibi, perché questa è una cosa secondo me drammatica, per cui le risorse sembrano essere le uniche responsabili della mancanza delle idee e delle scelte. Non è così, non è così, perché se uno ha scelte, idee e scelte le capacità di scelta, trova anche le risorse e decide di trovarle le risorse. Allora, Presidente Municipalità, anche questo, l'avevamo accennato all'inizio, la vecchia partizione per cui il verde tocca a me, il grigio tocca a te, il rosso tocca dall'altra parte. Così è andata finora, eh? Lo sapete tutti che è andata così finora, no? Ecco, allora adesso come si fa? È possibile, indipendentemente dalla riforma delle municipalità o meno, indipendentemente da quello che succederà, non è possibile che l'unico petto, per esempio, che è in basso in piedi, no? Di amministrazione, si dice, l'unico petto di raccontato democratico, ma siamo sicuri che sia veramente chi rappresentano questi signori oggi, a chi rispondono questi signori oggi, a chi rispondono, perché il problema è importante, poi, a chi è il tuo referente, a chi rendi conti di tua attuazione. Allora, questa è un'altra cosa che deve essere direttamente definita, cioè, se una porta politica, se un movimento cittadino propongono dei candidati alle municipalità, devono avviare lo stesso percorso che vale per il sindaco. Siamo d'accordo? Bene, procediamo. Allora, sui programmi, la questione sarà, io penso che sarà molto difficile, ma bisogna accettare la sfida, ma in modo che il programma sia, uno, leggibile, deve essere una cosa, formulata con diversi criteri anche di logibilità, ci sarà il programma intero, ma c'erano poi due programmi che vengono trasformati in modo che possa essere capito da tutti, perché altrimenti, dentro le iconi, dentro le virgolette, scrivo qualsiasi roba, ed è quello che è accaduto finora, quanti effettivamente nel dibattito cittadino sono riusciti a discutere delle proposte dei singoli candidati, oppure in maniera molto sporca su singole questioni che diventavano più grande di altre. Però a queste cose bisognerà strutturarle e fare in modo che, chiaramente, solo uno si riesca ad avere delle qualità di chiave. Procicchiate, no, scusate, 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 su questo, proprio perché questo è così importante, nei programmi, sui grandi studenti, deve essere indicato, almeno, qualche misura, come, per poterlo realizzare, ci si rapporterà nel corso dei cinque anni con la cittadinanza. Faccio l'esempio per tutte le grandi grandi. Oggi siamo allo scavo, allo scavo del canale contorta, è tutto il problema delle navi. Mettiamo che nel programma fosse stato scritto che si doveva parlare di questo. Doveva essere detto che, di fronte a un problema di questa natura, bisognava sentire i cittadini, perché non è una volta per sempre, non è un bianco America e il bianco. Questa è la sconfessa. Al proposito, ma no, su questo, io chiederei che chiedessimo a chi vince e a tutti, di, perché in parte risponde alla questione di Cristiano, ma anche a di là, che gli strumenti, istituzionali della partecipazione. In Comune c'è un regolamento, nello Statuto ci sono gli istituti di partecipazione, c'è un regolamento che attua, che non è mai stato, perché è una cosa, come dire, che è stata ottenuta con una lunga cosa, ma che andrebbe provata e probabilmente riformata e riformulata. Ci sono in città cose, penso solo una delle prime che andrà in discussione con il nuovo signor Comunale, all'uso dell'arsenale, che sono un ottimo esempio per provare un regolamento per vedere se l'istruttoria partecipata o la delibera di litiativa dei cittadini, tutte queste cose. Chi va a governare deve darsi questa interfaccia con la popolazione o con una lista che deve praticamente fare consultazioni, che il Comune si dia e apri un regolamento di partecipazione popolare sulle scelte. Aggiungo che a livello nazionale Cristino Monti aveva detto che avrebbe istituito il debattic, vi ricordate, per le opere pubbliche che le devante sportanza. A livello comunale bisognerete quantomeno fare delle prove di democrazia partecipativa sulle decisioni, politiche, prima di iniziare a pensare a un'opera, ma vedere se con la cittadinanza si è d'accordo sull'opera e sulla finalità, prima di intraprendere qualsiasi cosa. Molti dicono questa è una partita di tempo, l'agenzia che partecipa fa perdere il tempo. No, perché questa decisione condivisa e presa prima fa perdere molto meno tempo dopo nell'istruttoria, nella progettazione, è nella fase di realizzazione. Non dimentichiamoci che prima devono essere valutate tutte le alternative e poi si può procedere. Questo dovrebbe essere la normale democrazia partecipativa. questa è quella della consulta, delle consulte. Io vorrei che ricordarsi un attimo, non è il momento, ma è lungo e basta. Questi quattro centri parole che sono tutte fuori, dibattito pubblico, bilancio partecipato, l'enucleazione delle alternative possibili e delle cose importanti rendono complicatissimo il ricordo del passato che è successo. Il referendum sulle grandi tematiche della città hanno un punto sulle alternative e si fa un referendum. Quindi queste quattro cinque cose che si può fare anche meglio, ma insomma ci sono già enunciate perché solo per fare il finto referendum sulla chimica, ma vi ricordo cosa è successo sul tempo, sulle alternative dell'analisi. Parliamo e avanti così. Quindi queste quattro cinque idee che sono europee a sto punto, partecipazione, dibattito pubblico, alternative e referendum vengono un attimo scritte meglio e arrivano un attimo. Ok, allora mi pare che su questo siamo d'accordo. Quindi l'ultima questione, l'impegno dei candidati per l'incontrazione periodica dell'attività amministrativa e confronto continua con gli elettori. Questa è un'altra questione che voglio dire, sappiamo bene che poi si identica. Il giorno dopo, boh, che cosa succede? Non ho tempo, mille impegno, mille cose. No, deve essere in qualche modo strutturato e costruito i luoghi e le forme della rendicontrazione. Quindi il programma di chiunque sarà la forza che vuole candidarsi dal punto di vista di questa regola significa dimmi qualunque rendiconterai alla città, periodicamente con chi modalità e con chi strumenti. Raggiungerei a candidati che si intende al comune e gestori delle società. Certo, certo. Ecco sì, è molto importante tener conto della seconda e della terza generazione di figliazione perché poi sono spesso le strutture che finiscono a decidere in maniera totalmente tecnica. E quando diventa tecnica la tua diventa estremamente preoccupante. se non ci sono... Ecco, ci sono un'altra proposta perché la nole è in bianco, immagino che già voi avete dato indicazioni con i post-it e con le cose. Sarà importante adesso fare un lavoro di raccolta di questo materiale. Io vorrei andare a chiudere adesso dicendo semplicemente due cose. Ricordare che il lavoro che vogliamo fare quindi è su queste regole per applicarle e misurare le proposte che verranno. Ok? E per essere molto concreti già da questa sera. Perché se è vero che la segretaria del PD questa sera fa il dibattito sulle primarie, domani mattina avremo già alcune, alcuni dati del problema con cui potremo misurare queste regole e capire se effettivamente le regole per esempio del come si costruiscono le coalizioni corrispondono a queste regole oppure no. Quindi questo esercito lo cominciamo a fare subito. Direi un'altra cosa. Che c'è un impegno, quindi il lancio, io mi sento di partecipato. C'è un impegno in un movimento cittadino che comunque non abdica più, che non lascia semplicemente che siano i partiti a decidere qual è l'offerta politica in questa città. Perché se la fucile è scadente, l'unica maniera è che cominciamo a farci da mangiare. Sarà complicato, sarà difficile, sicuramente c'è tutto il tema che è stato discorso, che anche il signor Testa disseva prima, quanto questa città è in grado di esprimere meglio di quello che c'è adesso. Io penso che bisogna partire però innanzitutto dal fatto che sicuramente c'è un paese in questa città che è in grossa sofferenza e che rispetto a queste persone e a questi cittadini una risposta va data, altrimenti i meccanismi di disgregazione della comunità andranno avanti. Allora, un impegno diretto di un movimento cittadino, Belenica Cambio 2015 si mette a disposizione su questo, per costruire assieme un programma con questioni rilevanti, con priorità chiare e la possibilità che queste diventino effettivamente in materia di discussione.